Come promesso continuiamo a giocare a raft, ma dato che l'abbiamo finito abbiamo deciso di provare una sfida, questo oggi è abbastanza particolare Vogliamo scoprire se con la difficoltà massima del gioco, quindi parecchio più difficile di come stavamo giocando noi Si riesce a sopravvivere senza mangiare né pesce, né squali, né gabbiani, insomma nessun tipo di carne ma soltanto verdure e frutta Quindi proviamo ad avviare un mondo, proviamo a piantare un sacco di roba, proviamo a prendere un sacco di frutti E vediamo se siamo diciamo ecosostenibili, all'incirca si potrebbe definire così la nostra avventura Secondo me no, finirà malissimo Quindi difficoltà difficile, creiamo il mondo e stiamo a vedere Ovviamente nei commenti proponeteci altre sfide che secondo me possono essere divertenti da fare E oltre a quello ovviamente faremo una base gigantesca ma quello là sarà nei prossimi video Allora invitiamo velocissimi a fare che qua altrimenti muoio già di fame secondo me perché sarà velocissimo Ovviamente E ti è arrivato giusto? Sì sì sto entrando Ok e adesso penso subito a prendere materiali, devo essere veloce Vai vai muoviti muoviti Tanto ormai comunque stavo per dire che sia un bravissimo e ho missato una cosa Bravo Sì è andata proprio così Diciamo tanto ormai siamo molto bravi col rampino Eccomi Quindi secondo me possiamo anche gestircela abbastanza bene Barilozzo Non c'è bisogno di dirti cosa è fondamentale Esatto Ovviamente Anche quella foglia è mia Questo Preso? Sì preso Ok te lo stavo lasciando in custodia Dimmi che ti ha già dato patate o cose del genere No No? Delle foglie ruttami, corda, magneto, potassium Mi dispiace Ci serve tutto, ci serve tutto Allora la fame e la sete stanno già scendendo Ovviamente perché qua Sono in ansia Sono in ansia Scenderanno molto più velocemente Sì Ma proprio tanto Noi ovviamente dobbiamo soltanto dimostrare che può essere costante E riuscire a nutrirsi senza la carne, senza il pesce e tutte quelle robe Dopodiché la nostra sfida è completata Se invece non è fattibile Creperemo in modalità difficile e arriverci Grazie Allora al barile ci penso io Quindi tu pensa alla destra Alla fine dividiamoci sinistra e destra Così riusciamo a prendere tutti gli oggetti Allora questi due dovrebbero riuscire ad acchiappare l'entroambi Comunque cosa molto importante secondo me dovremmo anche riuscire a fermarci nella prima isola che incontreremo Assolutamente sì Assolutamente sì Però sai non dipende molto da noi Perché dobbiamo trovare delle pietre Ma adesso noi sappiamo che se troviamo degli scogli che noi al tempo pensavamo che fossero inutili In realtà lì andiamo sotto acqua e troviamo le pietre Sì 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 esatto Quindi non è male We can handle this Forse La cosa importante è non buttarsi mai in acqua a nuotare Perché per quanto sia più facile prendere gli oggetti Pasqualino perché abbiamo iniziato quindi è pasqualino Non sia troppo pericoloso all'inizio Sprechiamo troppa fatica e quindi ci scende più in fretta la sette e la fame Tecnicamente è pasqualo È pasqualo hai ragione Tecnicamente è pasqualo Effettivamente sì Ok qua ho preso un bel po' Adesso riprendo un altro pochino di foglie Io il depuratore lo potrei anche creare Però intanto non abbiamo spazio dove metterlo Diciamo solo che morsica il punto giusto a pasqualo e ce lo rompe Volevo iniziare a costruire per quel motivo Quanta legna hai? Otto Io ho dodici Plastica? Eh sette Io ho undici La sto battendo raga Ah stai zitto Crea un altro gancio perché mi sono reso conto che rischierei di spaccarlo mentre sono lì sotto Me lo metto così Io mi sa che vado Ok vai Vado? Sì C'è pure una zattera alla destra Eh vabbè Tutto adesso? Pieno di roba però Bello 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 c'è Steph Tu devi essere i miei occhi Cioè mi devi far capire quanto manca Capisci? No penso ti lascerò nell'isola Non lo so Ok va bene Tanto muori da sola Tre pietre sono qua Me ne mancherebbe soltanto una L'avevo detto che è fattibile L'avevo detto che è fattibile Una Ok vai 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 Comunque tutta l'esperienza fatta nel gioco È davvero utile Quando voi ci sapere di nuovo Ovviamente Tre E questa qua è la quattro Allora stiamo vicini all'isola Ok Quindi ti devi guarda Allora ta ta Fatala ancora Ok Corri 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 Eccomi Corri 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 Ce la facciamo Ce la facciamo Che arriva pure lo squalo Uoviti No non mi morsicare Pasqualo Ok Ok Eccomi Perfetto Vai 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 Quindi faccio così Lancio Ce l'abbiamo fatta È finalmente un'isola raggiungibile anche a piedi Sì Che anche quello era importante Ok Vediamo un pochettino Allora Ho pensato che avevo un problema Non l'abbiamo lascia Non l'abbiamo lascia Lo so Non ci avevo pensato io a questa Cosa ci vuole per farla? Mi sa tanto vero? No 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 Aspetta riesco a farla Ok Ci pensi tu a tagliare gli alberi? Sì Sì Perfetto Sto controllando tutto in cima Se c'era qualcosa di utile Fere ma mi sa che quest'isola Comunque è molto povera Sembra un po' povera Pensavo che avessimo avuto fortuna Ma in realtà non così tanto quanto pensasti Non c'è neanche un frutto per terra E ci sono tre alberi da tagliare Esatto Però comunque qualche No? Sì? Cosa? Qualche noce di cocco Una Davvero Fammi fare il terzo Che poi ti rendi conto che le palme Non le possiamo neanche ripiantare Perché serve nel vaso gigante Nel vaso gigante Eh appunto È solo per mangiare un pochettino Due Due Poi ho ancora la famosa Unica patata Quindi Cioè c'è costato molto di più In ambito di fatica Che ti devo dire Steph Che ti devo dire È terribile questa cosa Depuratore dell'acqua qui Mi devo fare anche una tazza Riesco a farne E ne vuoi anche tu sì? Eh sì dai Sì Ok te l'ho lanciata per terra Così è più facile Poi depurare l'acqua Perfetto L'ho messo a depurare Prendi anche tu Ok Allora a questo punto Noi praticamente Dovremo riuscire a creare un vaso Quattro corde Le corde io le ho create Non ho assi di legno Ho finito la legna No lo faccio io il vaso Già fatto Ok perfetto Perfetto Mettiamolo Aspetta non voglio che lo morsichi Quella scendente di scuola Lo mettiamo qua Pianto una patata Vai Che vuoi? Guarda a sinistra Bello Bello Steph Ma come ci arriviamo? Eh Non lo so Credo a nuoto Però secondo me vale la pena Dai maledetto E smettila Lascialo in pace Dai Ferre Non puoi picchiarlo Arrenditi Accettalo Ok Sei un maledetto Ma il discorso è A me esce un'altra ancora Sì Ok Ok Ma l'ho già creata È meno male Per fortuna che ho preso le pietre Ma come ci avviciniamo? Ce l'è la pagaia? No Penso che Vuoi rimare con le braccia? Eh Non lo so Come facciamo? Non mi sembra che stiamo andando Sì da fare anche Stiamo andando in quella direzione Se prendi due di plastica E posso creare la pagaia Andiamo di lì Ok Ne ho uno Quindi ne manca un altro Uno l'ho preso anche io Ok a posto Aspetta il barilozzo Che questo è importante Anche questo Devo prendere subito Ok dai 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 Sì 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 La plastica ce l'ho Ok brava Che hai preso anche quello di legna Mi hai dato anche uno di pietra Ah ok E la piantina l'hai piantata giusto? Eh La patata La patata sì L'unica che abbiamo Però sì Via Ferre È ora di remare Ferre io credo di morire di fame Prima che arriviamo lì guarda Ma no dai Eh sì sto morrendo di fame adesso Vabbè di sette adesso ci possiamo arrangiare no? Sì sì Il problema è il cibo Ah no io ho la sette bassa E allora bevi dai E allora ci beviamo questa Dai la riempio di nuovo io vai Non si ama minimamente a questa difficoltà Ci hai fatto caso? Non si ama Non ti riempia Non ti Vabbè Non ti disseta Ferre sono concentrato a pagagliare Quindi non riesco a parlare Tu sei sempre concentrato A pagagliare Mi sto sempre pagagliando nella vita Certo certo Che brutta parola Pagaglia No? Pagliaia Pagaglia Pagliaia Pagaglia Stai pagagliando? Non ho sbagliato Sì che ho sbagliato Non è vero Allora Eh non so ti può essere utile un cocco Non lo so Non so che darti Spaccartelo in testa è utile Non so che darti Lo vuoi? No Non lo vuoi? No Ah ma lo mangio io Sì Allora bevo un po' d'acqua Sono un uomo Vabbè ma che cattiveria Vero? Che cattiveria È molto difficile Abbiamo messo la difficoltà più alta Quindi ci sta pure dai Cioè nel senso ci sta che sia realmente difficile Altrimenti non è una vera difficoltà Allora Di nuovo le isole altissime Ma che avete pensato con sta roba? Perché? Ok Io comunque sono riuscito a tenermi attaccato Sono stato bravissimo No ok Faccio il volo al giro per capire se c'è magari un punto basso Ok ma non penso Nenche io Quando sono fatte così Non c'è Eh perché è uno spreco immenso di materiali Sì Che non abbiamo poi Grazie Pasqualo Mi ci voleva proprio un attacco Di squalo noturno così Ma non si può arrampicarci in qualche modo Ma tu come stai? Bene? Di sette fame? Sì Sì più o meno Sì? Eh sono quasi a metà Andandoci anche un po' abbondanti Ok Entrambi Ok Ci sta Eh Come cavolo saliamo? Non lo so Tipo Eh ci gioca No ci ho provato anche io a fare così ma non funziona Aspetta Se riesci a fare un po' di parkour vai Secondo me fa No non fa Arriva il Pasqualo Grazie Pasqualo Sto per morire Mettila infatti Fa molto più male No no non fa Dai ma di pochissimo Devi fare dai un po' di rampa E perché tu hai legna? Due Anzi no Sedici Allora ok Dammela Non so perché me le ha divide Per quello all'inizio Grazie cara Allora quindi Devo fare martello Andiamo di Classico tetto Mamma mia quanto ci costa però Cerca di farne il meno possibile Da qui due tipo Basta non farne altre Esatto Vai ce la facciamo tanto Ok Ferre tu sei ovviamente l'addetta a spaccar tutto Lo so Sto cercando al volo se vedo tipo delle angurie o dell'ananas in giro Vi prego Vi prego C'è la seconda isola Dateci qualche frutto E poi però come saliamo ancora più in alto? Non lo so Cioè questa cosa ti ripeto Non mi piace No quello niente a me Quello niente a me Cioè come dovremmo fare? Non c'è modo Non ti so dare risposta Non c'è modo Non c'è modo Non c'è modo quindi non lo so Dai Facci salire gioco Cioè a me no fammi un personaggio che si sa arrampicare Qua non è difficile arrampicarti È bassa questa roccia Quindi perché non mi fai No questa dove sono io Guarda che non è così tanto alta Fammi vedere Cioè se tu mi dessi una spinta Tipo sai a mo Che ti metti così Della spinta all'altro Ce la farei tranquillamente Quindi perché non me lo fai fare? Raccogli fiore Posso raccogliere i fiori lì sopra Comunque l'unica cosa che ho ottenuto È altra legna Dei semini Che non possiamo piantare Spaga anche questo di albero E cinque cocchi in tutto No l'avevo visto Questo c'è troppo buio Stef Non abbiamo neanche il letto per riposare Quindi c'è troppo buio Lo so Mi sa che Finisce così l'avventura Nel senso che non riusciamo a salire A me piacebbe Su funzionanza il rampino per saltare Eh sì anche Quello sarebbe figo Però è più un gancio che un rampino Quindi non penso che ti possa reggere Esatto Il livello di peso Niente Eh non possiamo salire E credo che siamo morti ufficialmente Perché non possiamo salire Che fastidio che mi dà sta storia E se facessi Ce l'ho fatto Ce l'hai fatto Sì Bravo Non siamo morti Ok mangio un'anguria Anche se poi Dobbiamo fare anche per l'anguria I vasi migliorati Quindi Sì È difficile Però Sai è qualche chance in più Soprattutto Ferre Se tu vieni qua C'è del mango Però io ho fatto un parkour difficile No non lo voglio Altre angurie Ok Ok Continuo a mangiarmele Non suamano per niente Le angurie sono inutili Comunque Ci serve Piantare il mango Ok qua materiali utili Ed è pieno di mango È pieno zeppo di mango Ce l'hai fatta? Non ho capito da dove sei passato Sono qui Da qui giusto? No più verso destra Da lì Devi saltare dove sono io È dato Ok andata Ok rompi questi alberi di mango Sì Il mango suama bene Infatti se noi riuscissimo A ripiantare il mango Sarebbe jackpot Quindi dovremmo fare il tavolo da ricerca Che ho già fatto Ok Vado a provare a sbloccare il mango Mentre tu lo prendi Tanto io non posso fare nulla qua Perché c'hai tu l'accetta Dov'è dove 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 Non è male Comunque ce la siamo cavata Infatti Infatti Cioè secondo me Quanto meno È stata una mossa d'orgoglio Interessante Ovviamente Vediamo Il vaso di coltivazione Grande Allora Mi tocca mangiarmi almeno un mango Sto morendo di fame totalmente Posso fare ricerca Ok Posso fare ricerca Poi mi servono delle corde Ah mi si è quasi rotta l'accetta Però penso di aver finito Di aver fatto Ok rimane solo un albero qua Quindi bene o male Quindi io faccio così A questo punto mi serve Si è rotta No Eh si Te ne mancava uno L'importante è che ha toccato tutto il mango Quanto mango abbiamo? L'ho fatto Tre Uno m'ho mangiato Vabbè comunque dai Facendo un piccolo recap Abbiamo tutto Tranne i rotami Per fare un vaso di coltivazione più grande Come potete vedere Ma ci mancano tre chiudi Quindi praticamente Ah no guarda Fatto Ok A posto Cioè Fatto Vai mettila Ho i semi vai Praticamente Fare stita Ah ce l'ho un seme di mango in effetti Mettilo 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 Dove? Nel vaso grande Dove? Dov'è il vaso grande? Ma qua non ci devo mettere le palme? No il mango Ah metto il mango Sì Ok Ok Secondo me ci abbiamo fatta Sì Siamo ufficialmente sopravvissuti Perché Il mango suama bene Le patate qualcosina fanno Aumenti di grandezza la base Ah vabbè Rompela Vero? Sì Ti prego Ok Meno male Meno male che non ha rotto tutto Guarda Sono morto dentro Eh direi Dopo tutta quella faticaccia È nato Pasqualo che mi fa venire un infarto E dicevo E basta cadere in acqua In questo modo noi viviamo di mango Continuiamo a ripiantare le patate Prima o poi trovi le barbabietole Fai un botto di vasi Un botto Un botto di depuratori Sì E ce la fai Proprio chiaro come il sole Ce la fai Anche a difficoltà massima Del gioco Abbiamo perso un barile Cavolo Però ne ho preso quest'altro Ok fammi vedere Speravo di trovare le cose utili Vabbè Comunque Secondo me quindi Suida completata Siamo stati davvero bravi Anche perché Anche adesso ho un pochettino di fame Ma ho ancora un mango E un'angurietta da mangiare Le patate Stanno finendo di crescere Sono praticamente pronte E quindi abbiamo dimostrato Che si può Vivere e sopravvivere Senza mangiare pesce Senza mangiare squali E così via E gabbiani E gabbiani Che però erano più buoni Ancora del pesce Quindi Quello mi manca Non ci provare Guarda In ogni caso Speriamo che questa sfida Vi sia piaciuto E nei commenti Scriveteci altre sfide Che vi piacerebbe vedere Scriveteci che cosa Vorreste che costruissimo Dentro il gioco Cose giganti Cose particolari E così via Così magari sappiamo Cosa fare anche in quel senso E credo che di raft Usciranno due video Alla settimana Con cose appunto particolari Poi vediamo Ma se fanno delle patch Torniamo sul nostro mondo Che ovviamente È lì bello pronto E andiamo avanti Alla conquista di altre cose Certo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti